Dalla prossima estate, i 45 chilometri della striscia urbana est della Statale Adriatica fino al mare, nel tratto che attraversa i sette comuni del litorale Terramano, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, diventeranno la città 30 più lunga d'Italia. Unico nel suo genere il progetto di sostenibilità e sicurezza stradale, frutto del lavoro congiunto dei comuni dell'ATS, città della costa, assieme a FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e Assoturismo Confesercenti Abruzzo. Siamo veramente felici come ATS, città della costa, di partecipare sui nostri tratti della ciclovia Adriatica e dell'interno lungomare dei nostri territori. I sette comuni costieri Terramani parteciparanno alla riduzione per una mobilità più sostenibile dei 30 chilometri orari sul nostro territorio. Sicuramente una regione che ha propensione green, dunque noi tutti i temi ambientali, soprattutto sulla mobilità sostenibile, li stiamo portando avanti con un grande collaborazione, la provincialità erano uno dei sette comuni della costa e la regione Abruzzo. La creazione della zona 30 con il più ampio sviluppo lineare d'Italia in uno dei più importanti bacini turistici balneari della costa Adriatica fa di quella Terramana un caso virtuoso sui temi di sostenibilità ambientale, sicurezza, vivibilità, fruibita, ciclabile e pedonale, declinati in chiave turistica. L'abbassamento dei limiti di velocità e il loro rispetto sono la premessa per la sicurezza stradale, quindi per incoraggiare anche la mobilità attiva, quella a piedi, quella in bicicletta o anche con altri mezzi alternativi. E poi il maggiore uso della bicicletta e dell'andata a piedi, favorito da queste norme, a sua volta rende le strade molto più sicure, perché è dimostrato che laddove si usa di più la bicicletta ci sono minori morti sulle strade, anche tra i pedoni e gli automobilisti. Quindi non è un problema, ma semmai è la soluzione per la sicurezza stradale. L'iniziativa impatta su una popolazione di 120 mila abitanti che supera i 3 milioni di presenze turistiche. È una mossa per il turismo in generale, per l'alta qualità, per la sicurezza dei nostri turisti. Questi comuni hanno dimostrato di avere la volontà di creare un reale parco urbano fruibile per i turisti in piena sicurezza. E noi come associazione del turismo e del commercio siamo stati promotori di questa iniziativa perché abbiamo tutto l'interesse ad un turismo di qualità e la base della qualità è la sicurezza.